Ancora una volta su Pokémon X Andiamo avanti con la storia Magari caliamo un po' la musica nelle orecchie Che è un po' altina però Allora Stiamo registrando? Sì, siamo in diretta Sì Quindi si va avanti Allora Che cosa? Grazie Gentilissima Me l'ha chiesto Bill Un tipo della regione di canto Tu pensi solo a catturare tanti Pokémon E a riempire il box No grazie No grazie Cosa sei? Maniero sottotono Allora Prima Perlustriamo la zona Un pezzo stella Un pezzo stella Grazie 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 Non ti accomodare Non è tuo letto E mont하 Un pezzo stella Are you signed up? Dice l'hotel attacco speciale livello 1 a piacere grazie mille si va avanti all'hotel l'abbiamo fatto eh non ce l'ho con me dolce cuore grazie sicuramente andiamo a visitarlo non si può negare che mostri la patina del tempo ma è un autentico pezzo di storia ma è un autentico pezzo di storia beh direi di sì però prima io voglio visitare camera da letto andiamo con calma mappa allora qua cosa abbiamo l'orto delle bacche sono sicuro l'irrigalotad 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 allora adesso basta però ce n'è di posto mira col seme l'irrigalotad non non adatto di là percorso numero 6 di qua percorso numero 6 ok di qua percorso numero 6 di qua percorso numero 6 e allora andiamo alla reggia aurea che domanda è inutile credo a me che dovevi fare prima il 7 del 6 prima coraggio signora non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto. Cambio a Pokémon. E la prima l'abbiamo sbangata. Cara Yvonne... Yvonne... Scusate, un po' stanchino. No... Scusate... Ehm... Scusate... Ehm... E ora... Mi congedo... Una doppia... Ehm... 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 Questa è grave... Ehm... 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 Mi dispiace... Butterfree... Ehm... 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 Carino... Chi sei? Sì Sì Un oddish Sì Sì Mio Lotta Sonnifero Scusate un attimo Aspettate un attimo Come si fa a mettere in pausa qua? Aspettate un attimo Rimanete in linea Aspettate un attimo Ok, continuiamo Lotta Allora, lotta Farassi insieme Intanto recuperiamo anche un po' di energie Sì 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 Salve ragazzino Grazie a tutti. Perfetto, è sciolto il problema. Sì, la vuole imparare. Fai a dimenticare. Al posto di... Eh, no. Ne vale la pena? No. Allora, teniamo... Come evitare l'attacco? Perché evitare l'attacco? Non puoi evitare l'attacco. Evitare l'attacco è... Non comprensibile. Non comprensibile. Non comprensibile. Buon appetito! 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 Grazie a tutti. Salve. Abbiamo un turista. Salve. 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 Salve! Concierge! Ah no, è una turista! Sembrava una concierge! Illumise! Non è un problema! Braccere! Allora! Tanto non lo userò mai, farò strido! Allora! Allora! Non avvelenarlo! Non avvelenarlo! Bravo! Allora! 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 Mincada Nespur Veleno Shock Sono scappato da Mincada ma era meglio se lo catturavo Bene l'ho trovato di nuovo Proviamo la maialata Grandissimo Grandissimo Allora andiamoci a curare Abbiamo il membro numero 4 e il membro numero 5 del team Allora andiamoci a curare Grazie 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 Fa no niente mancia no niente no niente mancia 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 dove diavolo si è cacciato quel maledetto no niente mancia proviamo al piano di sopra no niente mancia no niente mancia no niente mancia no niente mancia buono no niente mancia 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 Grazie a tutti. Grazie al cielo. Grazie a tutti. 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 Chi lascia in giro la roba? Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, hai frainteso, te lo giuro. Ma non è un appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gentilissimo. Gentilissimo. No, tranquillo. Grazie a tutti. Allora, va bene così. Salva. Io, ragazzi, la finisco qua. Io, ragazzi, vi rimando a domani sera, vi rimando a domani sera, sempre alle ore 8 in live. non mancate, non mancate. Io vi auguro, vi auguro, vi auguro, vi auguro tante cari cose. fatti bravi, vi auguro, vi auguro, vi auguro, vi auguro. Ciao.